I testi etruschi ci documentano un ridotto numero di firme di artisti apposte su vasi, affreschi, decorazioni fittili. Il numero risulta ancora più esiguo se comparato con la grande quantità di materiale rinvenuto attraverso le ricerche archeologiche. Risulta spesso anche difficile riconoscere queste firme, perché possono essere associate a un verbo del fare, come le forme perfette zinache, menache, acasce, che viene usato anche con diverso significato, oppure essere del tutto prive di verbo, in questi casi è il contesto che guida nell'interpretazione del nome come firma di artista. Dopo una prima fase di dipendenza clientelare degli artigiani nel VII secolo, le firme di età successiva ci restituiscono informazioni anche sulla condizione sociale sia di libertà con la presenza o meno di gentilizi che di schiavitù. Fra questi contiamo alcuni artisti greci che lavorarono in Etruria e firmarono o in greco o in etrusco le loro opere. Il più famoso di questi è sicuramente Aristonothos, che significa il più nobile dei bastardi, che lavorò nella città etrusca di Cerveteri nel VII secolo avanti Cristo.